Normalmente è il cliente che licenzia il suo avvocato, ma stavolta è accaduta la cosa opposta. Omar Giampaolo Mohamed Ahmed, legale di Marco Campione, ha deciso infatti di rimettere il suo mandato. Ma lo ha fatto raggiungendo la Procura della Repubblica di Egrigento, la stessa che indaga sul sistema Girgenti Acque, e rilasciando dichiarazioni spontanee, accusando in queste dichiarazioni l'imprenditore Deus Ex Machina di quel gestore idrico privato finito sotto inchiesta di essersi comportato da codardo. Non mi fido più di lui, avrebbe detto il legale, ma l'occasione sembra essere stata più o meno propizia per raccontare anche altre cose, a quanto pare tante ai magistrati del pool capeggiato oggi dal procuratore capo facente funzioni Salvatore Vella, che ha preso il posto di Luigi Patronaggio, passato a Cagliari. Sembra che l'avvocato Omar Giampaolo Mohamed Ahmed abbia fatto rivelazioni inedite su almeno dieci anni di sua collaborazione con le società del gruppo Campione e dei suoi consigli al proprietario di Girgenti Acque, al tempo stesso di società fornitrici della stessa, di mettersi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cose che però Campione avrebbe preferito non fare, prediligendo ascoltare i consigli di un altro avvocato. Pare che tra le cose riferite ai magistrati l'avvocato abbia parlato anche di ambiente lavorativo complicato, con un presunto sistema di controllo dei dipendenti del gruppo Campione, che sarebbero stati spiati per verificare i requisiti di integrità morale per lavorare le dipendenze di Marco Campione o costretti a lavorare con un ruolo che avrebbe avuto anche la moglie di Campione, che avrebbe chiesto allo stesso avvocato di contattare un investigatore privato incaricato di scoprire sostanzialmente eventuali dipendenti, per così dire, infedeli. Assunto nel 2013 come semplice collaboratore, in pochi anni l'avvocato Omar Giampaolo Mohamed Ahmed ha scalato tutti i ruoli interni e in tre anni è diventato il capo dell'ufficio legale di Girgentiacque, assumendo la difesa di Campione, spesso anche in collegi difensivi con altri suoi colleghi, nei procedimenti giudiziari a carico del capo della società. La procura della Repubblica e di Grigento naturalmente vaglia queste dichiarazioni, ma stando a quanto trapela, sembra che non ci sarebbero fatti clamorosi utili ad aggiungere nuove accuse. Il punto centrale, come spesso accade in queste circostanze, sembra essere economico. L'avvocato infatti ha detto di essere creditore di oltre 170 mila euro, ottenendone solo una parte, ma attraverso una compensazione relativa ad una fornitura di materiale elettrico e rimanendo così creditore di 120 mila euro residui, somma che l'avvocato ha tentato di riscuotere dai fratelli di Marco Campione, che oggi amministrano le società del gruppo, ma Marco Campione in persona non l'avrebbe consentito. Il prossimo periodo sarà significativo per lo sviluppo delle indagini, nella stessa che ipotizza un giro illegale di favore e raccomandazioni per posti di lavoro a familiari, amici e amanti. A Campione viene contestato di aver messo in piedi un sistema di corruzione a tutti i livelli. Tra gli indagati lo stesso ex prefetto Nicola Diomede è accusato di aver salvato Girgentiacque da un'interdittiva antimafia che poi sarebbe stata firmata dal suo successore. Diomede e altre 46 persone dovevano comparire nelle prossime ore davanti al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Grigento, Micaela Raimondo, che dovrà decidere se rinviare a giudizio o meno gli indagati per le accuse a vario titolo di concorso esterno in associazione a delinquere e abuso d'ufficio, ma per un difetto di notifica l'udienza è stata rinviata al prossimo 24 di giugno.